La guardia di finanza ha eseguito le misure questa mattina. L'accusa è di corruzione. Per la stessa vicenda è anche indagato Flavio Briatore. Secondo l'accusa, il professionista avrebbe corrotto il funzionario pubblico, per tentare di ammorbidire la posizione di Briatore per la maxi-evasione fiscale legata al suo yacht, il force blu.